Ok ragazzi, siamo a Zurigo, a Letzigrund, lo stadio che hanno costruito per gli europei, ma non siamo qui per vedere una partita, siamo qui, per il fantastico concerto dei Rolling Stones. I biglietti sono regalati da G. Stiamo incontrando gente, sì c'è un problema che stiamo aspettando un nostro amico qui e io sto con il cartello sopra e mi stanno prendendo per Bagarino, mi stanno chiedendo dei biglietti. Che ci siamo dentro? Che lì, eh sì, siamo qua. Ciao. Ragazzi, stai iniziando. Che smogli come si è libero? sempre gettalo proprio quello youre sempre gettalo come puoi e lei come puoi essere libero? ma io estaria perduto maczenia no... mi sembrava bene? è il mioواo ma sei un po' mi sembrava bellezza e il mio progetto sono Il concerto è finito, è stato emozionante, un po' troppo moscio, secondo me, per colpa degli svizzeri. Allora, avete mai visto un concerto che all'ingresso danno omaggio i tappi per le orecchie? La serata alla fine è andata bene perché non solo abbiamo avuto il biglietto gratis, ma abbiamo trovato a terra una maglietta originale, l'abbiamo trovata a terra, costava 50 franchi. La fortuna ogni tanto gira. Che culo! Bene, biglietto gratis regalato e maglietto al concerto gratis. Perfetto. Buonanotte a tutti, ciao!